sweep of the week ciao a tutti sono francesco fareri e questo è una nuova puntata vediamo di unire le tre figure che abbiamo visto lo stato fondamentale due rivolti orizzontalmente partiamo dalla minore ricordatevi sempre il verso della peltrata della mano destra avete già fatto la vostra scelta avendo guardato la prima puntata di questa di questa serie diciamo di video in base a questa dovete portarla avanti su tre corde è molto più difficoltoso che farlo su quattro o cinque corde o sei corde anche su sette volendo perché avete meno corde a disposizione per dare l'effetto sweep picking partiamo con il la minore e poi lo rivolteremo una cosa abbastanza complicata prende l'apertura già corretta della mano sinistra quando si fanno questi salti orizzontali inoltre all'inizio avrete tonica terza poi terza quinta e poi quinta prima per cui diciamo vi dovete già predisporre con l'apertura corretta della mano sinistra vediamo anche la sua relativa figura maggiore spero che questi esempi possano essere d'aiuto e ci vediamo al mio corso di tecnica qui a scuola ciao a tutti grazie a tutti